amici stracandidi la stagione è appena terminata ma si sa la fine di una stagione segna sempre l'inizio di quella successiva ci aspetta un'estate con gli europei il calcio mercato le amichevoli estive sogni e speranze per il futuro e io vi aspetto qui sul canale per i 5 stracandidi minuti in cui affronteremo l'argomento del giorno a tinte azzurre ma non solo quindi seguite le indicazioni che seguono e ci vediamo qui sul canale dello stracandido azzurro